tradisce qualche cosa, Bush era un coglione per cominciare a prendere una faccia da un coglione e la sua faccia è così, perché gli vanno a dire Mr. President, un aereo di linea si è andato a schiantare contro una torre delle due torri gemelle quindi la sua prima reazione è dello smicoltimento però una cosa è vera, i tempi di reazione di Bush e di spedalata l'aereo, l'Air Force One ha svolazzato per tutto il giorno ma sono stati i servizi di sicurezza che hanno portato su ma chi ha detto che era parte del complotto, io neanche se mi vuoi far dire le cose che non dico, divertiti pure ma non sappiamo nemmeno sull'omicidio della Ciduca Francesco Ferdinando da parte di Caprino Prince quello è uno dei rari casi di omicidio che potrebbe essere anche andato in prescrizione perché è stato veramente tanto tempo Molinari, Molinari e Lucino poi